Vieni Altair, dammi notizie dei tuoi progressi. Ho fatto quanto mi avete chiesto. Bene, bene. Sento che i tuoi pensieri sono altrove. Apri il tuo cuore. Ogni uomo che mi mandate a uccidere mi rivolge a parole criptiche. Ogni volta vengo da voi in cerca di risposte. E ogni volta ottengo solo enigmi. Ma ora basta. Chi sei tu per dire basta? Sono l'artefice degli omicidi. Se volete che continui, per una volta dovrete parlare chiaro. Misura le parole, ragazzo. Non mi piace il tuo tono. E a me non piacciono i vostri raggiri. Ti ho offerto l'occasione di riacquistare l'onore perduto. Non perduto. Strappato. Da voi. E poi mi avete mandato a riprenderlo come se fosse un cane da riporto. Pare che dovrò trovare un altro. Peccato. Avevi mostrato un grande potenziale. Credo che se ci fosse un altro lo avreste impiegato da tempo. Avete detto che otterrò risposta alla mia domanda quando non avrò più bisogno di chiedere. Quindi non chiedo. Esigo che mi diciate che cosa lega quegli uomini. Mmm, ciò che dici è vero. Quegli uomini sono legati da un patto di sangue non dissimile al nostro. Chi sono? Non nobis, domine non nobis. Templari. Ora capisci la vera influenza di Roberto di Sable. Tutti quegli uomini, governatori di città, comandanti di eserciti. Hanno tutti giurato fedeltà alla sua causa. Il loro operato non va considerato singolarmente, ma nell'insieme. Che cosa vogliono? La conquista. Vogliono la terra santa non nel nome di Dio, ma bensì per se stessi. E' Riccardo. Salah al-Din. Chiunque si opponga ai Templari verrà eliminato. Sta certo che dispongono dei mezzi per farlo. Ma allora devono essere fermati. E' questo il fine del nostro lavoro, Altair. Per garantirci un futuro libero da cose simili. Perché mi avete nascosto la verità? Perché tu sparciassi il velo da solo. Come in ogni incarico la conoscenza precede l'azione. Ciò che si apprende da soli è più prezioso di ciò che veniamo a sapere. Tra l'altro, la tua recente condotta non aveva ispirato molta fiducia. Capisco. Altair, la tua missione non è cambiata. Muda solo il contesto nel quale la percepisci. Ora che ne sono consapevole, potrò capire meglio i Templari che arrestano. C'è qualcos'altro che desideri sapere? Che ne è stato del tesoro che Malika ha recuperato nel Tempio? Roberto sembrava bramoso di rieverlo. Col tempo, Altair, tutto apparirà chiaro. Come hai scoperto il ruolo dei Templari, così sarà per la natura del tesoro. Per ora ti conforti il fatto che non è in mano loro, ma nelle nostre. Se ciò è il vostro volere, lo è. Hai riacquistato un altro rango. Riprenditi l'arma. Usala per portare onore alla confraternita. Altair, prima che tu vada. Sì? Come sapevi che non ti avrei ucciso? A dire il vero, maestro, non lo sapevo. Ho avuto fede. Mi devo addestrare nel cortile. Olè. Ciao. Sentiamo che cos'hai da dire. No? Strano. Posso andare avanti allora. Per Gerusalemme. Finirà per colpire qualcuno. Permesso. Cosa sta facendo quello? Salute e pace, Malik. Vorrei che la città possedisse entrambi. Perché mi disturbi quest'oggi? Al-Mualim ha marchiato a morte Magid Adin. Che cosa sai dirmi di lui? L'assenza di Salah al-Din ha privato la città di una vera e propria guida. E Magid Adin si è attribuito da sé questo ruolo. Ottiene ciò che vuole con la paura e l'intimidazione. Il suo titolo non ha alcuna legittimità. Oggi questo finirà. Fai presto a parlare. Non si tratta di uno schiavista qualunque. Egli governa Gerusalemme e perciò è ben protetto. Ti suggerisco di pianificare l'attacco con cura. Vai a conoscere meglio la tua preda. Col tuo aiuto lo farò. Dove mi consigli di iniziare? Che c'è? Mi stai chiedendo assistenza invece di pretenderla? Mi stupisci. Parla dunque. Come vuoi. Ecco dove cercherei. Prima a sud-est, vicino alla moschea. Dopodiché recati a sud. Ci sono due luoghi che troverai interessanti. Uno è la chiesa più meridionale. L'altro sono le strade attorno a una sinagoga. Grazie dei consigli, dai. Non rovinare tutto. Gerusalemme. No rovinare tutto. No rovinare tutto. No rovinare tutto. No rovinare tutto.